Ora il prefetto dell'Aquila convochi di nuovo i sindaci del centro Abruzzo ma su altri temi come ad esempio i MUSP e la sicurezza sismica delle scuole. A un datigine interviene il coordinatore di Sovranità Valle Pelini Alberto Riggian Domenico a proposito del progetto SPRAR riguardante l'accoglienza dei migranti sul territorio della provincia dell'Aquila ha presentato stamane agli amministratori del territorio direttamente da prefetto. Per quale motivo il prefetto non viene a assumere a parlare dei MUSP dal momento che i nostri ragazzi frequentano scuole con un coefficiente sismico poco sicuro si chiede di Giandomenico che non guarda di buon occhio il progetto che migliora la distribuzione dei migranti sul territorio. Dovremmo pensare ad esempio ad abbassare le rette scolastiche o altre iniziative per il sociale, continua il coordinatore di Sovranità sostenendo che il prefetto debba riunire i sindaci e discutere sui problemi e le priorità del territorio. Il Consiglio Comunale chiede un incontro ad hoc su questi temi e prenda le distanze dal progetto SPRAR perché abbiamo altre priorità da affrontare chi osa il coordinatore di Sovranità.